Venerdì 15 gennaio, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Fano TV e ben ritrovati. Questa è Occhio ai giornali ed è la rassegna stampa che apre tutte le mattine la giornata in diretta della nostra emittente. Un cordiale saluto a tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto e con tanta simpatia. Grazie. Cominciamo allora adesso dal santo di oggi. Oggi è un santo che è vissuto nel 1800 circa, Sant'Arnoldo Yansen, fondatore di congregazioni religiose. Insomma, il sole sorto alle 7.38 tramonterà alle 16.57. Chissà se lo vedremo il sole oggi nel senso che sarà coperto dalle nuvole. Inizialmente sarà nuvoloso con copertura in graduale attenuazione nel corso della mattinata, ad iniziare dal pesarese. Le precipitazioni saranno deboli con fenomeni diffusi nelle ore notturne in graduale attenuazione nel corso della giornata, da nord verso sud, nevicate al di sopra dei 1200-1300 metri. Quindi nella mattinata dovrebbe schiarire e quindi arrivare il... vedersi il sole. Temperature sono in marcato aumento. Questa invece è la giornata di domani, sabato 16 gennaio. Vedete, nelle zone interne ci sono precipitazioni diffuse, sparse altrove, a prevarente carattere di rovescio. La quota neve scende parecchio, siamo a 300-400 metri. Anche quote più basse nelle vallate interne del centro settentrionale. In ulteriore abbassamento durante la serata, quindi da 300-400 metri, scendiamo a 200-250, ma forse anche qualcosa di meno. Non si escludono brevi nevicate anche a quote basse in occasione dei rovesci più intensi. Vedete, anche sulla costa, soprattutto nel pesarese, possibilità di vedere neve mista a pioggia, o comunque anche solo neve soltanto quando ci saranno i fenomeni più intensi. La giornata di domenica, invece, sarà più o meno ancora caratterizzata. Vedete, su tutta la regione costa mista neve e mista a pioggia, mentre l'entroterra godrà di rovesci intensi e avremo il limite delle nevicate intorno ai 150 metri, in particolare, insomma, nella giornata di domenica. Il tempo migliorerà nelle giornate di lunedì e martedì, ad eccezione di qualche debole fenomeno residuo nella prima parte di lunedì. Le temperature non mostreranno sostanziali variazioni. Allora, adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico. La pagina di Fano, a centro pagina, Pesaro e Fano hanno diritto a due ospedali. Qui Carloni, di Alleanza Popolare, sbaraglia il dibattito. Il Santa Croce dice che non si tocca perché cura oltre 100.000 persone. La nascita di Marche Nord ha salvato la nostra struttura all'epoca, ma non ci sono più i presupposti di pari dignità, quindi se ne può tranquillamente anche uscire, dice Carloni. Sono in continuo contatto con il Ministro Lorenzini e credo in un percorso diverso da questo caos. Ed è su questo percorso che adesso bisognerà un attimo puntare di più l'attenzione, capire qual è questo percorso di cui parla il consigliere regionale Mirko Carloni e vedere davvero se è fattibile e se è fattibile percorrerlo tutti insieme appassionatamente, verrebbe da dire. Un progetto unitario per ridisegnare le piste ciclabili, invece l'altra notizia che troverete sulla pagina di oggi del Corriere Adriatico e poi sotto, in difesa dell'umanesimo, notte dei licei classici al Nolfi. Oggi è dalle 19 alle 23, attivati i laboratori, maratone di lettura, conversazioni letterarie e dibattiti filosofici. Poi sempre sulla sanità, non voterò il documento di Massimo Seri raccogliendo l'eredità ideale di Giancarlo Danna, il consigliere comunale Pierpaoli di Città Ideale, ne continua la lotta contro l'azienda Marche Norte. Così abbiamo letto un po' i titoli della pagina. Allora, poi, andiamo sull'altra pagina di Fano del Corriere. Scogliere a Sassonia si parte il 20 febbraio. I lavori verranno sospesi soltanto per l'estate, previsto anche il ripascimento delle spiagge di Gimarra. Il costo dell'opera è, in questo primo stralcio, è pari a 3 milioni di euro finanziati dalla Regione. Il Carnevale si mette in mostra invece al Caffè Centrale l'esposizione delle immagini più belle tra quelle selezionate al concorso. Saranno 52 le fotografie e 11 manifesti della passata edizione che rimarranno visibili fino al 21 febbraio. Poi ancora, sempre dal Corriere, il Paese dei Balocchi manda a scuola 50 bambini siriani, consegnato all'Associazione Uxilia il ricavato delle iniziative natalizie e di una iniziativa fotografica. Il Museo dei Bronzi è in copertina, siamo a Pergola, l'immagine campeggia nell'elenco telefonico che sarà distribuito a 150 mila famiglie. Ovviamente è contento il sindaco Francesco Baldelli che qui è fotografato con il direttore di Commercio Amerigo Varotti. Intanto è boom anche per il cartellone teatrale. In 5 ore venduti 80 abbonamenti appunto al teatro. Andiamo sull'altra pagina, quella di Senigallia invece del Corriere. Ladri e truffatori, il bottino è ricco, a Cesanella ripulita un'abitazione in pieno giorno. Sul lungomare Mameli è stata raggiunta anche un anziano. Andiamo sulla pagina invece adesso di Pesaro. Sei pesaresi nell'inferno di Giacarta, solo paura per Francesco Dovidio e Silvia Ginepro, suo marito e i loro tre bimbi. Stiamo bene, state tranquilli, dicono loro, lui è il figlio di Silvana Ratti, lei di Sergio Ginepro. Telefonate le famiglie subito dopo l'attentato appunto a Giacarta. Ricci e Capuzzimato invece, parliamo del porto di Pesaro. Facciamo ripartire il porto, presentati gli interventi per il 2016, quasi 3 milioni di lavori, dal dragaggio della Darsena Vecchia all'illuminazione dei Moli. Chiamiamo giornale, adesso andiamo sul messaggero in evidenza, con una foto grande in verticale. Ecco qua la notizia dei pesaresi nell'inferno di Giacarta dopo l'attentato. Vedete la zona in cui c'è stato appunto l'attentato in Indonesia. E sopra invece le due fotografie dei due pesaresi che si trovano appunto là, Francesco Dovidio e Silvia Ginepro, un post di ieri mattina ha fatto sobbalzare decine di pesaresi. Siamo sicuri in ufficio, hanno scritto, è apparso sul profilo di Facebook di Francesco Dovidio. Insomma, poi nel corso della giornata si sono apprese ulteriori notizie. Insomma, stanno bene, questa è la cosa che conta. Conta, Sanità, Mossa dei Grillini, sindaci pronti al referendum. Imbarazzo PD, Comi, Convoca, Ceriscioli e Marini, poi Vertice. Gambini, qui in gioco c'è la vita. Gambini è il sindaco, il primo cittadino di Urbino, che presiederà domani la conferenza dei sindaci dell'area vasta numero 1. Naturalmente queste notizie che io vi leggo sulle prime pagine dei quotidiani, le ritrovate anche nelle pagine interne. Quindi noi andiamo avanti e andiamo subito alla pagina di Fano. Viabilità a Sant'Orso, la rivoluzione dolce. Il quartiere diventerà un laboratorio per la nuova mobilità. Nella fase sperimentale saranno coinvolti anche insegnanti e scolari. Sant'Orso sarà il quartiere e laboratorio della nuova mobilità Fano. Una nuova vecchia mobilità nel senso che i suoi criteri si ispirano alle istituzioni ancora attualissime del laboratorio Città dei Bambini. Poi il tema chiaramente della sanità, anche qua sulla pagina del messaggero. Ospedale Carloni apre a Seri, ha fatto bene. Il consigliere regionale è d'accordo con il sindaco. I tempi sono cambiati, restare dentro l'azienda Ospedali Riuniti, Marche Nord, non è più un obbligo, dice il consigliere regionale. Poi, via Ruggeri, valuteremo dove iniziare. Le scogliere, l'assessore Fanesi ribatte ai residenti sull'avvio dei lavori. Residenti che, come ricorderà chi segue la rassegna e chi ha seguito la rassegna ieri mattina o chi ha letto i giornali, i residenti sono sul piede di guerra perché i lavori prima riguarderanno un tratto di mare antistante uno stabilimento balneare. Una cosa che ha un po' fatto storcere il naso ai residenti di Via Le Ruggeri che tutte le volte invece che ci sono le mareggiate nelle loro abitazioni c'è l'acqua fino alle ginocchia. Bene comune, l'ambito sociale di Pesaro è il migliore questo è l'altro titolo con relativo servizio nell'odierna giornata di studio verrà avviato un progetto pilota. Adesso andiamo sul resto del Carlino la pagina di Fano apre ancora oggi con l'incidente al casello l'incidente di Natale dove persero la vita mamma e figlioletto di nove mesi la tragedia della 14 parla il testimone che racconta di aver visto l'auto travolgere quella famiglia il conducente fanese risponde di omicidio colposo. L'altra pagina invece sulla sanità Carloni SOS alla Lorenzin e via da Marche Nord allarme sanità all'analisi del consigliere regionale qualcosa è cambiato nel 2009 fu giusto dice Carloni entrare nell'azienda poi oggi invece è ingiusto restarci. sotto anziani malati a scuola di Sorrisi a Fano è città capofila regionale di un progetto per curare la demenza senile. E poi la Curia, la Curia Fanese guidata da Trasarti che fa lo sconto sull'affitto all'Agenzia delle Entrate sapete l'Agenzia delle Entrate ha i propri uffici nello stabile che è di proprietà della Curia Fanese e c'è adesso soddisfazione per questo accordo che evita dunque la soppressione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che comunque alla fine insomma anche se sono un luogo di dolore per molti di noi è però comunque un servizio che svolgono e quindi gli uffici fanesi dell'Agenzia delle Entrate sono in qualche modo possiamo dire salvi. In questa fotografia c'è naturalmente il Vescovo Trasarti e poi ci sono Carmelo Rau che è il dirigente regionale il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate e un suo collaboratore. Andiamo avanti e l'altra pagina del resto del Carlino affronta invece a Mondavio parla dell'udienza davanti al Gup di Pesaro di una tragedia di un omicidio massacrò la moglie a colpi di bastone potrebbe cavarsela con 16 anni di carcere se riconosciute le aggravanti della familiarità e crudeltà la pena invece arriverebbe a 30 anni chiesto il rito abbreviato questa è la Villa degli Orrori mentre la vittima in alto Rossella Iatesta sotto l'imputato Gino Ruggeri al centro la casa di San Filippo sul Cesano un fatto tragico che avvenne il 9 dicembre del 2014. Siamo quasi in chiusura andiamo sulla pagina di Pesaro ecco qua come sarà la piazza davanti alla palla di Pomodoro la città di Pesaro che cambia il cerchio davanti alla palla sarà la piazza dei Ballerini zona mare partono i lavori della Red Urbano i lavori sono stati affidati per 350 mila euro alla ditta Rossi di Fano finiranno entro il prossimo mese di aprile tra l'altro chi ricorda sicuramente l'ironia che uscì su Facebook sui social network perché qualcuno pensò di disegnarci qua una croce e quindi farlo diventare una sorta di eliporto e quindi da lì si scatenò un po' tutta la... fu bersagliato insomma questo progetto sul web però ecco adesso oggi esce questa precisazione quindi poi vedremo i lavori quando saranno terminati. Allora chiudiamo invece adesso con una curiosità se volete il Carlino questa mattina racconta dell'avventura televisiva di un 58enne di Orciano si chiama Fabio Brunetti a 58 anni e per caso o per passione insomma questo signore fa recita recita negli spot e quindi è successo con lo spot della Barilla per fare da spalla a Favino l'avventura televisiva a scegliermi tra tanti candidati è stato il premio Oscar Gabriele Salvatore e naturalmente stiamo parlando di Fabio Brunetti che ho appena cerchiato con l'evidenziatore mentre con il rosso per chi non lo avesse riconosciuto è John Turturro mentre sotto qui è con Carolina Crescentini ok chiuso anche chiusa anche la pagina del Carlino la rassegna stampa finisce qui ok i giornali torna come sempre domani mattina alle 7.30 questa sera invece alle 20.30 c'è il nostro telegiornale vi auguro di trascorrere una serena e piacevole giornata anche in compagnia dei nostri programmi arrivederci a tutti i nostri spettatori